Signore e signori, siamo giunti all'ottava e l'ultima volgia dello Slam Fighting Championship 6, il mare volge. Questo match è valido per il titolo della Happy and Pain Division, play around 5 minuti al limite dei 120 kg di peso. Questo match è offerto da Velvet Goldmine, Firenze, ed è abitato dal signor Alessandro Grandis. All'angolo rosso, da Tena Cina per l'MMA Fighting Team, 1,80 m per 120 kg di peso, 23 anni, il suo record, 4 vittorie, 5 sconfitte, un pareggio. E' un grapplero, è Alfredo Alcini. All'angolo blu, da Tena Cina, per il boxing Tena Cina Team, 1,90 m di altezza, 113 kg di peso, 30 anni di età, il suo record consiste di 5 vittorie, nessuna sconfitta, nessun pareggio. E' un wrestling, è un wrestling, è un pugile, è un play boxer, ed è il campione in carica, Mauro De Hammer, c'è lì! Voi siete pronti a sostenere la guerra, sì del cammino, sì della pietate, che ritroverà la mente, che la verra, sì o no? Voi siete pronti a sostenere la guerra, sì del cammino, sì del cammino, sì del cammino, sì del cammino! Voi siete pronti a sostenere la guerra, sì del cammino, sì del cammino, sì del cammino, sì del cammino, sì del cammino! Voi siete pronti a sostenere la guerra, sì del cammino, sì del cammino, sì del cammino, sì del cammino! Voi siete pronti a sostenere la guerra, sì del cammino, sì del cammino, sì del cammino, sì del cammino! Voi siete pronti a sostenere la guerra, sì del cammino, sì del cammino, sì del cammino, sì del cammino! Voi siete pronti! 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 C'hanno un video, un video, un video. Un video, un video, un video, un video. Un video, un video, un video, un video, un video. Un video, un video, un video. Un video, un video, un video. Un video, un video. Un video, un video, un video. Un video, un video, un video.